Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Tortuga a Parastail mentre ascoltiamo questa simpatica canzone piratesca e quello che dobbiamo fare è portare a termine la missione per l'Olanda che ci chiede di affondare 4 navigli, 5 navigli francesi, ne abbiamo affondato uno, dobbiamo anche affondare 44 navi e siamo praticamente neanche a un decimo della missione, ah che gioia, allora qui c'è un naviglio ma sono abbastanza sicuro che se attacco le navi nemiche qui vicino alla città poi sono cavoli allora andiamo un po' via da qua, grazie, tipo potremmo stalkerare questi, vai fuori dalla cacchio di secca? no, mezzo segui quella nave dove è andato? eccolo là, vai dai riesci ad andare un attimino più veloce? no eh guarda un altro oh no, 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 dai dove ne... che... mamma mia che ansia sti pirati eh guarda, guarda, guarda lì, abbiamo questo vai un po' le dobbiamo affondare, un po' le dobbiamo rivendere un po' di tutto insomma vediamo belli aggressivi eh che nave è questa? è la caracca? eh, che buffo bisogna fare gli screenshot perché c'entra, comunque questa ha una quantità di vita impressionante no i can hardly wait we'll show them how it's done right eh, ma dopo? oh bello si, si, vai qua se lo dici te tra un suso avanti a tutta birra i hope it's worth it mazza oh francese dobbiamo cambiare i cannoni eh francese dobbiamo fare un re tiff un re tiff un re fit impressionante della nave eh allora qui facciamo anche così no no si spero che hai un plan non no 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Allora, sono rimaste ste due che potremmo cercare di prendere... Ci speronano! Ah, ma sono tre navi? No, perché questa è piccola... Allora è un po... Allora... Allora... Gli stiamo spappolando le fiancate... Ok, questa è pronta... Allora... Allora... Fallito con 76%... Allora... Allora... Vai, eh... Uh... 96%... Bello, bello, bello... Grande... Con il nostro cuore in giro in giro in giro... Niente si può stoppare... Capisco perché questo... 47%... 2%... Vai... Tutti addosso... Ammucchiata... S2... 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 Come, non lo so... Le zanzare assassine... L'unica cosa è che appunto... Siccome dobbiamo affondare 44 navi... Va bene... Questa nave non è male... Il problema è che veramente... Perdiamo un sacco di equipaggio... Non posso aspettare... Questo potrebbe funzionare! Grazie a tutti. A me piacerebbe affondare questa. Forse da qua? A me piacerebbe affondare questa. Come, ragazzi! Allora, cantate così che il mondo possa uscire! Buon vero! I fulgati non avessero mai avanti! Poi le altre le prendiamo. Mamma mia. La tua scema è stata un po' di più. Non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo. È un po' di più. È un po' di più. Ma non dovremmo farlo. Ok. Vele. Perse. No dovremmo farlo. Quasi non dovremmo farlo. Ma non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo. E' un po' di più. Grazie a tutti Grazie a tutti Immunità che c'ha uno 0,000% di armatura ancora Se questa è buona come penso La possiamo dare al francese Grazie a tutti Grazie a tutti No one can stop us Full speed ahead The boat's ours I hope you know what you're doing Let's get that royal scum Those still standing at the end get a bottle of rum The boat's ours Okay Bene Allora vediamo Aspetta non fa più vedere 1700 1700 Eh Subito Subito lo prendiamo Ben ciao Che andiamo così piano Perché Vediamo Vediamo questi che devono fare Dai 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 A uno all'ora andiamo Falta Aspetta No 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 Non ci conviene cambiarla adesso Perché Sennò Abbiamo una nave ferita Via battaglia Vai Qua dobbiamo affondare tutto qualcosa Adesso Poi Voi Poi Lai Poi 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 Lai Poi 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 Lai una che stava succedendo all'anale che stava affondando tipo impazzita io credo che abbiamo fatto loro un favore finalmente, ho apprezzato I'm just saying they would have done better to give up Finally I almost fell asleep With enough foresight we can win every battle Those still standing at the end get a bottle of rum I hope you have a plan Take the best sabers and grab their cargo That's how it's supposed to be Take a look at what's in this game Ok Presa Si no No Ora si Allora Andiamo qua C'è il porto olandese Possiamo anche cambiare Nooo Un'altra nave pirata Allora Tu vuoi morire Muori Facciamo 7 milioni di sesterze Comunque ho visto dove sta il covo pirata Adesso Prendiamo ste navi e andiamo a distruggere il covo pirata lì Ok Oh Vabbè Uta Quando è troppo È troppo No ительно Non Non Vabbè Qublo Unرا Un' planned Un' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. The Lord of the Sea. We are hard in the right place, no one can stop us. Adesso vi affondiamo la flotta e poi distruggiamo casa. Come on men, singa so the whole world can hear us. I hope you know what you're doing. They didn't want it any other way. We'll show them how it's done right. We'll be right in the right place. We'll be right in the right place. We'll be right in the right place. Oh, complimenti per lo schifo di posizionamento. It's a good thing. Cerchiamo di prenderla questa, ragazzi. We'll show them how it's done right. We'll be right in the right place. We'll be right in the right place. We'll be right in the right place. Do we already know what's coming next? Come on men, sing so the whole world can hear us. We'll be right in the right place. 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 I'm sorry, I'm sorry. We'll be right in the right place. It's a good decision. Who knows what this man will end up doing with his second chance? Allora vendiamo la roba Questa ci serve Dobbiamo andare a comprare Allora capitani Plot Beh questa addirittura a 1.6 La nostra Allora a 1.7 Ma è un galeone da guerra Non c'era Eh no eccola qui Questa non è normale Però No La diamo a lui Ha i cannoncini Non particolarmente buoni Allora questo lo possiamo vendere No? Ok Devo andare dal fornitore Tre Mancano ancora due convogli E ci serve il grog assolutamente Allora C'è un museo Andiamo qua Andiamo a cercare il grog Guarda come è sceso immediatamente L'umore Ad essere risalito Perché? Non no Se qui non ci dovesse essere grog Sarà un bel problema Benissimo 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 Andiamo un po' di questo Andiamo un po' di questo Silenzio Va benissimo E adesso andiamo a picchiare Malamente questi pirati Perché hanno rotto 1100 1100 Niente Abbiamo affondato 27 27 Let's get that royal scum Fa andare ancora un bel po' di navi Ma che stai a dire? Vabbè Finally I almost fell asleep Not solite Vabbè Mina Tag Qu'est-ce Il Qu'est-ce 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 Grazie a tutti. 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 No, questa è mia. Grazie a tutti. In ogni battle. There'll be no sleeping here. Grazie a tutti. Grazie a tutti. There'll be no sleeping here. A disgrace. That's still could have been sold. Come on men sing so the whole world can hear us. Giù sta l'altra. Giù sta l'altra. Loro. We'll show them how it's done right. That would work. Have all of you sharpened your swords? That could work. So, so... So, so... Quindi le difese... Sì, le difese... Le lezioni di schermo... Dopotutto mi sono servite. I do think we've done them a favor. Sì. I do think we've done them. I do think we've done it. Bye. Eeeh 105 ottimo Eeeh no 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 stiamo perdendo Eeeh diavolo hanno fatto non si sa E' che ce l'hanno fatta Eeeh 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 Bene, bene Vediamo un po' che bottino Questo, questo Niente Grog Pirati senza Grog Ok, bene E dopo aver ripulito anche questo covo Direi che possiamo terminare qui Il video Allora, come sempre vi ricordo che qui sotto Potete lasciare un commento Mettere like al video e iscrivervi al canale E nel prossimo episodio Cercheremo di portare a termine Finalmente la missione con l'Olanda Anche se da questa parte Non dovrebbero esserci Navigli francesi, ma non si sa mai Come al solito Io sono Roy Lovat E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao